Sono di nuovo a Kiev, nella terra dei coraggiosi, scrive così sui social Roberta Mezzola, presidente del Parlamento di Strasburgo, nel giorno in cui si festeggia la giornata dell'Europa. Pochi minuti dopo, l'incontro pubblico con il presidente Zelensky è interrotto dalle sirene che segnalano l'ennesimo allarme missilistico sulla capitale ucraina. La Mezzola alza lo sguardo verso l'alto, poi un cenno d'intesa con il presidente Zelensky e i due si avviano verso il bunker del palazzo presidenziale. Proprio in quel momento a Mosca era in corso la parata della vittoria, la poderosa sfilata militare per commemorare il 79esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. 9.000 militari hanno sfilato sotto il palco presidenziale dove c'erano gli alleati di Mosca, tra cui i leader di Cuba e Bielorussia. Nel discorso pronunciato sulla Piazza Rossa, Putin ha detto che la Russia, sono le parole del capo del Cremlino, farà tutto il possibile per evitare uno scontro globale, ma le sue forze militari sono sempre pronte al combattimento. Siamo al giorno di guerra numero 806. A quasi tre anni dall'inizio della guerra non c'è nessuno spiraglio di pace. I servizi segreti ucraini sono riusciti a mettere a segno un attacco contro una raffineria di petrolio nella regione russa della Baschiria, con un drone che prima di colpire ha volato per una distanza di 1500 chilometri. Nell'incontro riservato tra Putin e i vertici militari russi, il capo del Cremlino ha dichiarato che droni nemici volano sulle nostre teste come mosche. Su questo, ha proseguito Putin, ci stiamo lavorando e ci sarà un risultato.